L'anno scolastico sta per concludersi e come tradizione vuole è stato varato dalla giunta regionale il calendario per il prossimo anno 2024-2025. Gli studenti molisani torneranno a scuola giovedì 12 settembre, le lezioni termineranno il 7 giugno. Per le scuole dell'infanzia la chiusura invece è fissata per sabato 28 giugno. Il calendario prevede già anche le vacanze di Natale e Pasqua che quest'anno cade il 20 aprile, oltre ad altri ponti festivi. Sabato 2 novembre per il Ponte di Ogni Santi, sabato 7 dicembre il Ponte dell'Immacolata, da lunedì 3 a mercoledì 5 marzo per il Carnevale, sabato 26 aprile Ponte Festa della Liberazione e il 2 e 3 maggio venerdì e sabato Ponte 1 maggio. L'anno in corso è ormai agli sgoccioli e gli studenti molisani saranno ufficialmente in vacanza dall'8 giugno, tranne quelli delle scuole usate come seggi elettorali che potranno iniziare a rilassarsi i giorni prima. Ancora qualche settimana sui libri invece per i ragazzi delle scuole superiori che dovranno affrontare lo scoglio degli esami di maturità e il 19 giugno alle 8.30 prova d'italiano uguale per tutti e il 20 giugno seconda prova scritta sulle discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio.